Musica Musica e vi dico una cosa bella che mi ha dato l'ultimo confessore palenando di, sono andato a confessarmi in settimana la saggezza dei nostri frati e preti e anziani mi ha dato un'epenitenza questa la confessore non ve la racconto, ovviamente mi ha detto per penitenza benedici tutti quelli che vogliono bene, quelli a cui vuole bene quelli che fanno penare, quelli con cui c'è qualche cosa in sospeso benedici, benedici tutti ecco allora noi con Pietro e anche nel cuore vogliamo dire tutti e allora al suono del brano benediciamo la libera di San tutto il nostro paese grazie a tutti 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 grazie a tutti